Con l'occasione vi faccio vedere un po' di la fine di una regata credo che sia un campionato italiano di optimist con le bellissime piccole ega queste sono le optimist mannana, tutte rocco mannana, tutte rocco una bella minora queste sanno tutte oppure oh vieni 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 ora stanno all'entrando le puga stanno tirando le puga la ragazza è l'interno vieni 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 in soon smith vieni 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 vieni